Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi andremo a parlare di ponti termici. Andremo a vedere che cosa sono e perché sono così dannosi. Per farti capire meglio che cos'è un ponte termico, voglio farti un'immagine. Immagina una casa dove hai un isolamento a 360 gradi, una casa come la disegnerebbe un bambino. Magari invece di essere a 360 gradi, l'isolamento è a 359 gradi. Quindi in quel grado ho un ponte termico, ho un punto, una via di fuga per il calore, cioè proprio una corsia preferenziale per il calore. Te lo faccio capire ancora meglio guardando questa pietra. Questo immagina che sia la banchina che c'è sotto la finestra. Questo non è un materiale isolante, che sia una pietra, che sia un granito, che sia un marmo, è un materiale conduttore. Quindi se questo è all'interno della mia casa, il calore che ho all'interno prenderà questo punto come un'autostrada per uscire verso l'esterno. Questo porta due gravi conseguenze. La prima è lampante e credo che sia sotto gli occhi di tutti. E quindi è il dispendio energetico, il riscaldamento, il calore se se ne va, vuol dire che il riscaldamento che io ho pagato se ne sta andando all'esterno, quindi sto sprecando soldi. Però se il ponte termico non è esageratamente grande, non sarà nemmeno il problema principale. Magari si risolverà con poche decine di euro all'anno. Il problema del ponte termico principale è quello legato alla muffa e la condensa. Perché in questo punto qua, all'interno casa, avrò un punto più freddo, quindi muffa e condensa saranno quasi garantite. Soprattutto se tutto il resto della casa è ben isolato. Più la casa sarà isolata, più avrò il problema del ponte termico e di conseguenza muffa e condensa. Perché succede questo qua? Soprattutto in una casa clima o in una passive house. Cioè chiaramente se una passive house è progettata bene e una casa clima è progettata bene, non può avere ponti termici. O non può avere ponti termici così forti da generare muffa e condensa. Succede questo perché quando io alzo la prestazione di alcuni elementi e un elemento rimane indietro, quell'elemento inizia a essere un punto debole. Quello ad esempio che ieri succedeva nelle case anni 70, che tutt'oggi è pieno patrimonio italiano di quelle case, dove è tutto un ponte termico. Se io penso a casa dei miei genitori, che ancora non l'hanno isolata, hanno solamente gli infici con i vetri doppi, però le pareti, i pilastri di incendimento armato, le travi, sono tutti ponte termici non trattati. Però lì è tutto scarso, le prestazioni sono basse, quindi il ponte termico non crea danni. Ma quando io vado ad alzare le prestazioni di tutti i vari elementi, quindi dei tetti, dei muri, delle fondazioni, di qualsiasi cosa, dell'involucro esterno della casa, e lascio indietro qualche ponte termico, quel ponte termico mi darà un'infinità di problemi. Immagina, ad esempio, per farti vedere le cose visuali che rendono molto l'idea, questo è un infisso, uno dei più costosi che uno può prendere, in acciaio a taglio termico, ha un taglio termico molto molto importante, stiamo parlando di 85 mm di serramento, immagina che io prendo questo serramento, che l'ho pagato un sacco di soldi, e lo appoggio qui, sopra questa pietra, che è un'autostrada per il freddo, magari ci metto sopra un vetro doppia camera, quindi tripla lastra con prestazioni 0,5, che sono prestazioni da paura, ecco, succede che qua sotto il taglio termico non funziona più, perché viene collegato dal ponte termico della pietra, che non è stata trattata come si deve. Ci sono tantissime possibilità per trattare i ponti termici, basta sapere progettare bene, basta fidarsi di un professorista, oppure basta utilizzare il sistema bisacchi, per quello che riguarda le finestre. Per il resto della casa, basta fidarsi a un progettista in gamba. Ciao e al prossimo video!